Il Comune Costiero di Roseto ha bloccato il progetto delle barriere antirumore presentato dalle ferrovie dello Stato, così come aveva richiesto il Consiglio Comunale. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha infatti inviato all'azienda ferroviaria a rielaborare il progetto che prevedeva l'installazione di pannelli composti da barriere modulari che possono andare dai 4 fino ai 10 metri di altezza. Un prospetto che non è assolutamente piaciuto agli amministratori locali non solo, volto all'installazione di barriere opache almeno apparentemente ben più impattanti rispetto a quelle trasparenti già esistenti in alcune località della costa adriatica. C'è stato un incontro al Ministero dei Lavori Pubblici dove Roseto con una relazione ha detto che il progetto presentato alle ferrovie non era conforme agli standard urbanistici del nostro Comune. A parte tutto questo, ma io come assessore all'ambiente ribadisco che sul territorio di Roseto le barriere non debbano essere fatte, anche per non dividere questa bellissima città in due, lato colline e lato mare. Quindi un qualche cosa di obbrobbio, una cosa da non pensarci, perché queste barriere che partono da una media, dai 6 metri di altezza fino ad arrivare dietro, sarebbe una divisione netta del nostro territorio. E questo non deve essere permesso. Una situazione molto delicata su cui trovate d'accordo anche numerosi comuni della costa. Sì, io penso di sì, finora non ho sentito comuni favorevoli, anche se qualche cittadino, magari secondo me anche egoista vorrebbe queste barriere, magari i cittadini spostati nel versante del mare e non della collina. Ma creare in una città così bella, spezzarla in due, per me non è una cosa da proporre. L'iter adesso non lo so quanto tempo potrebbe comportare. Chiaro che sul finale ci sarà una conferenza dei servizi dove il Comune di Roseto si esprimerà in questa conferenza. Grazie. 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 Grazie.